Buonasera dal Tg6 in apertura la cronaca giudiziaria chiesta la conferma della condanna a 30 anni di reclusione per Vincenzo Gagliardi accusato dell'omicidio dell'ingegnere informatico Carlo Pavone avvenuta il 30 ottobre 2013. Il procuratore generale della Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila Romolo Como ha chiesto la conferma della condanna a 30 anni di reclusione emessa in primo grado a carico di Vincenzo Gagliardi per l'omicidio dell'ingegnere informatico Carlo Pavone colpito sotto casa a Montesilvano con un colpo di fucile il 30 ottobre 2013 e morto il 16 novembre del 2014 dopo un anno di coma. Il PG Stamani ha quindi chiesto il rigetto del ricorso presentato dal legale di Gagliardi l'avvocato Renzo Colantonio che ha riproposto sostanzialmente la linea difensiva adottata in primo grado. L'imputato agli arresti domiciliari da diversi mesi in primo grado era stato condannato per omicidio volontario premeditato dal GUP del Tribunale di Pescara. Maria Carla Sacco al massimo della pena cioè l'ergastolo ridotto però a 30 anni per lo sconto di pena previsto dal rito abbreviato. Il procuratore Como durante la sua requisitoria ha sostenuto che le prove attestano la responsabilità di Gagliardi oggi presente in aula. La difesa ha invece sostenuto l'innocenza dell'imputato facendo leva su alcuni elementi come ad esempio il coltello rinvenuto sul luogo del delitto prova a suo dire dell'innocenza di Gagliardi. La corte presieduta dal giudice Luigi Catelli ha rinviato al 20 maggio per le repliche e la sentenza. 750 mila euro in meno per il funzionamento dell'arta questa è la denuncia mossa dall'esponente di rifondazione comunista Maurizio Cerbo secondo il quale i controlli sui depuratori al centro della bufera inquinamento delle acque diminuiranno del 20%. Quel che accade in Abruzzo ha dell'incredibile. Il presidente della regione si presenta alle elezioni con lo slogan dei fiumi in mare puliti e sostanzialmente fino all'emergenza dell'estate scorsa non aveva fatto nulla come d'altronde non aveva fatto negli anni precedenti negli incarichi che aveva ricoperto. Si parla dall'estate scorsa praticamente solo di depuratori eppure la regione taglia di metà il contributo per il funzionamento dell'arta che deve fare i controlli sui depuratori. Di questa cosa però l'arta non protesta probabilmente perché il direttore generale Amicone si trova lì solo per grazia politica non è che è un esperto di ambiente e quindi non è che si può mettere a fare polemica politica con i suoi sponsor e quindi semplicemente fa una variazione di bilancio e adegua il bilancio e quindi diminuendo i controlli al fatto che si tagliano di metà i contributi. Le opposizioni in sede di bilancio e anche successivamente non hanno protestato e siamo al paradosso che il sottoscritto che fuori della regione non è stato rieletto, non essendosi alleato con il PD deve comunicare all'opinione pubblica che sono stati tagliati i fondi all'arta. A me sembra gravissima perché l'arta dovrebbe essere il fiore all'occhiello della regione e dovrebbe avere tutti i mezzi per funzionare al massimo per garantire i controlli ambientali che sono vitali per la salute non solo dei fiumi e del mare ma anche di tutti i cittadini. Secondo i dati pubblicati dal Cresa sul secondo semestre del 2015 artigianato e commercio segnano un calo sì ma minore rispetto al passato. Filippo Tronca. Sia le imprese commerciali che quelle artigiane abruzzesi chiudono il 2015 con una flessione del fatturato di circa l'1% rispetto al 2014 ma, buona notizia, l'intensità dell'arretramento si è sensibilmente attenuata rispetto al passato. Lo attesta l'indagine del Cresa sull'andamento nel secondo semestre del 2015 delle imprese artigiane e commerciali in Abruzzo. Nel commercio sono ancora le imprese della grande distribuzione a pagare il prezzo più elevato anche sotto il profilo occupazionale mentre quelle della ristorazione sembrano mostrare una maggiore capacità di ripresa. Le edilizie e la manifattura scontano ancora gli effetti della fase ciclica negativa. Tuttavia il direttore del Cresa, Francesco Prospero Cocco, definisce il 2015 come un anno di transizione. Perché si intravedono anche nella loro negatività che è molto attenuata rispetto a quella dei semestri precedenti dei segnali di ripresa. E questo è legato moltissimo sicuramente alla domanda aggregata soprattutto nella domanda per consumi e c'è una fiducia da parte delle imprese e delle famiglie a spendere per cui ci sono dei dati, soprattutto nel commercio, che danno delle positività il fatturato abbiamo registrato nel secondo semestre in Abruzzo cresce dello 0,2%. Erano sette anni che stava in campo negativo e in zona negativa. Anche per il settore dell'artigianato si intravedono dei levissimi segnali e anche, come dicevo prima, se in campo negativo ci sono dei miglioramenti e delle attenuazioni rispetto ai semestri degli anni precedenti e soprattutto al primo semestre del 2015. Dal canto suo il Presidente Roberto Di Vincenzo coglie l'occasione per evidenziare il compito importantissimo in termini di indagine e ricerca svolto dal Cresa istituto che rischia di pagare le conseguenze della riforma delle Camere di Commercio imposta a suon di tagli dal Governo. Il Cresa è un'istituzione davvero importante nella Regione è il luogo di produzione dei dati, di dati certi con una grande credibilità in un momento in cui c'è una grande necessità di attendibilità. Torna il collegamento tra Pescara e l'isola croata di Kvare a darne la notizia il Presidente della Camera di Commercio di Pescara Daniele Beci. Il servizio di Paolo Renzetti. Presidente Beci, poche ore fa la notizia tanto attesa tornerà quest'estate il collegamento tra Pescara e la Croazia. Sì, diciamo che ieri sera la notizia, c'è stata una telefonata nella tarda serata, ci è arrivata la comunicazione diciamo, noi non avevamo dubbi che tornasse SNAV perché c'era, come lei mi ha ricordato prima fuori onda c'era un contratto da onorare. Questo è l'ultimo anno che c'è questo rapporto ufficiale, contrattuale con SNAV e per cui SNAV ieri sera ha riconfermato che cominceranno appunto i collegamenti con l'altra sponda dell'Adriatico adesso i dettagli definitivi nei prossimi giorni li verificheremo però credo ci sia una turnazione, non vorrei dire essere impreciso ma credo ci sia una turnazione di 5 andate e ritorno tutte le settimane che andranno direttamente su Cvar con il mezzo che c'è stato l'anno scorso noi ci riteniamo moderatamente soddisfatti avremo gradito un mezzo più importante però devo dire che in questo momento il segnale positivo è che SNAV torna Quando dovrebbero esserci i primi viaggi? Guardi, credo che siamo nella media degli anni precedenti quindi dovrebbero cominciare, adesso le date precise non sono in grado di dargliele ma credo che cominceremo i primi di luglio e andremo avanti il mese di agosto fino ai primi di settembre Restiamo a Pescara e torniamo a parlare del sansificio l'annuncio è quello della riapertura dell'impianto la società Schiavone Biocalore ha presentato il ricorso al TAR di Pescara contro l'ordinanza con cui il 2 aprile scorso il sindaco di Pescara aveva sospeso l'attività dello stabilimento per presunte emissioni di fumo nociva alla salute pubblica il 21 aprile il TAR in accoglimento dell'istanza cautelare ha sospeso l'ordinanza consentendo all'impresa di riavviare l'impianto di essiccazione della sansa e quanto si legge nella nota diffusa dall'azienda questo provvedimento si legge nel comunicato è un primo importante riconoscimento che le emissioni di fumo non erano nocive per la salute pubblica e che il provvedimento di Alessandrini era dettato dalla psicosi sociale creatasi per i maleodore dalle continue pressioni mediatiche e politiche cui era soggetto in merito alle tematiche ambientali la sospensione disposta dal TAR prosegue la nota deve essere di monito nei confronti di quanti troppo frettolosamente avevano gridato all'inquinamento ambientale ora invece andiamo a Pineto accendi una luce nel tuo quartiere questo è il titolo dell'iniziativa messa in campo dalla Polizia di Stato insieme alla Municipale e all'Amministrazione Comunale per sensibilizzare i cittadini rispetto a come combattere la microcriminalità vediamo truffe, furti in abitazioni e altri reati predatori sono queste le tematiche degli incontri che la Polizia di Stato di Teramo assieme alla Municipale di Pineto terrà con la cittadinanza pinetese per sensibilizzare soprattutto le fasce più deboli su come difendersi dalla microcriminalità una serie di incontri nei quartieri della cittadina riverasca che si inseriscono nell'ambito del progetto Accendi una luce nel tuo quartiere prime due tappe già fissate il 30 aprile nel quartiere Santa Maria della Valle e il 5 maggio a Borgo Santa Maria quella tra le forze dell'ordine e i cittadini è una collaborazione che deve essere sempre più stretta ha sottolineato il questore di Teramo Giovanni Febo che ha rimarcato anche come la provincia di Teramo nonostante tutto abbia bassi livelli di criminalità non ci possiamo lamentare è chiaro che il nostro obiettivo è sempre ad abbattere ancora di più i reati come dicevo prima che ho fatto il raffronto tra i primi tre mesi del 2015 e quello del 2016 abbiamo un numero di furti inferiore di 250-259 penso di rapine più o meno sui 20-30 quindi non ci possiamo lamentare è chiaro che dobbiamo sempre essere vigili e poi dobbiamo lavorare anche perché con la prossima stagione estiva come dicevo sui milioni di turisti che vengono certo non è che sono tutti intenzionati a godere solo del sole purtroppo è una cosa che dobbiamo mettere in conto semplici ma efficaci i consigli contenuti in una brochure predisposta dalla polizia e che sarà consegnata ai cittadini spesso la delinquenza comune usa stratagemmi che possono essere disinnescati con piccoli accorgimenti i consigli saranno molto semplici del tipo di chiudere la porta a chiave con doppia mandata perché purtroppo non basta chiuderla con una sola quello chiaramente è di allertare sempre le forze dell'ordine se si presenta un impiegato dell'Enel o anche un poliziotto in borghese che magari gli chiede di fare qualche verifica all'interno dell'appartamento e in generale comunque di stare attenti e chiamarci sempre per ogni accertamento non disturbano il nostro lavoro quindi veniamo molto volentieri Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari Pettinari è il primo firmatario di una proposta di legge sul digitale nella pubblica amministrazione per le imprese e i cittadini Vediamo Consigliere Pettinari lei è primo firmatario di una proposta di legge importante che potrebbe semplificare il rapporto fra regione e pubblica amministrazione aziende e cittadini La definirei una grande rivoluzione della pubblica amministrazione perché questa proposta di legge prevede l'istituzione di un indirizzario regionale delle poste elettroniche certificate che significa che tutti i professionisti le imprese, le aziende, i cittadini e soprattutto le pubbliche amministrazioni abruzzesi regione, comuni e società pubbliche dovranno dotarsi di una posta elettronica certificata grazie alla regione Abruzzo che si occuperà di tutta la fase tecnica la regione Abruzzo poi costituirà un elenco di tutte queste poste elettroniche certificate questo sistema andrà a far risparmiare le pubbliche amministrazioni perché sono centinaia e centinaia di migliaia di euro l'anno per spedire una posta o una raccomandata andrà ad accelerare i tempi perché con un semplice click un cittadino potrà fare un'istanza, una domanda un comune, piuttosto che una regione e addirittura le pubbliche amministrazioni potranno colloquiare e comunicare in diretta quasi potremmo dire con i cittadini, con le imprese e con le aziende poi i cittadini che non sono dotati ancora di un servizio internet o non hanno le competenze quindi gli anziani, pensiamo agli anziani questa legge prevede la sospensione per quei cittadini, la sospensione della procedura ma con le economie che la regione risparmia da questa procedura andrà a fare corsi di informatica per formare i cittadini anziani e a installare il servizio internet in tutte le zone della regione Abruzzo La convenzione tra INAIL Abruzzo e Regione consente all'INAIL di erogare le prestazioni riabilitative integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati con oneri a carico dell'istituto i fondi a disposizione dell'INAIL Abruzzo al momento ammontano a circa 2 milioni di euro e ora ascoltiamo in dettaglio quelle che sono le dichiarazioni dell'assessore regionale alla sanità Silvio Polucci È un accordo importante che riguarda tre obiettivi principali intanto il lavoratore infortunato sul posto di lavoro ha la possibilità di poter integrare le proprie cure con una serie di cure aggiuntive che oggi sono definite extra LEA quelle LEA sono a carico della regione che saranno appunto a carico dell'INAIL in secondo luogo dimezzeremo i tempi di reingresso dei lavori infortunati in terzo luogo daremo respiro a tutte quelle strutture e quindi anche i lavoratori che investono sull'assistenza alle persone anche sull'assistenza riabilitativa e quindi daremo tra virgolette tramite l'INAIL un po' di ossigeno ulteriore aggiuntivo L'uscita del commissariamento della regione Abruzzo ce ne parli un po' Noi nel tavolo di monitoraggio abbiamo raccolto davvero 5 obiettivi che erano molto significativi per la nostra regione abbiamo visto approvato il piano sanitario 16-18 la rete e la riclassificazione dell'ospedalità il DM-70 abbiamo avuto una premialità perché per la prima volta nella storia questa regione ha avuto le adempienze sui LEA 2014 con una proiezione su 15 ancora migliore abbiamo concluso il programma operativo precedente ora ci resta da apportare una correzione perché durante il tavolo il Ministero delle Economie e delle Finanze un po' in via precauzionale ha sostanzialmente indicato alla regione Abruzzo e quindi varrà per tutte le regioni che il Fondo Sanitario Nazionale e quindi la parte che riguarda la nostra regione di conseguenza non avrà gli incrementi che erano stati previsti nell'ultima legge finanziaria in sostanza ci hanno anticipato che ci sarà probabilmente un taglio nella prossima legge finanziaria e quindi ci hanno chiesto visto che stiamo per approvare il 16-18 di apportare questa correzione Assumere giovani tra i 30 e i 35 anni sarà più economico e a dirlo è un bando che si chiama 30 più istituito dalla regione Abruzzo vediamo 6.000 euro per chi assume uomini tra i 30 e i 35 anni che salgono a 9.000 per le donne c'è 1.200.000 euro messo a disposizione dalla regione Abruzzo e destinato alle aziende nell'ambito del bando 30 più predisposto dall'assessorato alle politiche del lavoro sono già 600 i ragazzi che hanno inserito il proprio curriculum sul sito Borsa Lavoro che potrà essere consultato dagli imprenditori per scegliere il loro candidato ideale intanto sono fondi che non attingono alla nuova programmazione 2014-2020 ma sono fondi derivanti dal piano integrato giovani del Ministero del Lavoro si tratta di 1.200.000 euro circa le linee intervento sono due per tirocinanti extracurriculari e sulle aziende un incentivo nell'ipotesi in cui quelle aziende dovessero decidere di assumere a tempo indeterminato quei tirocinanti al termine dei 6 mesi abbiamo privilegiato questa doppia linea di intervento proprio per fare in modo che al termine del tirocinio ci sia una percentuale più alta di assunzione a tempo indeterminato il bonus garantito dal bando 30 più è cumulabile con altri bonus nazionali e va a completare l'azione intrapresa con il progetto Garanzia Giovani rivolto ai ragazzi fino ai 29 anni le domande possono essere presentate a partire dal 26 aprile e fino al 27 maggio promosso dall'autorità di gestione IPA Adriatic e dal nucleo della Guardia di Finanza del Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio ha preso il via nei giorni scorsi il progetto di collaborazione e scambio di informazione tra l'Italia e i paesi partners del programma IPA Adriatic il servizio nel 2013 gli stati dell'Unione Europea hanno segnalato frodi accertate o presunte ai danni del bilancio UE per un importo pari a 309,1 milioni di euro come emerge dalla relazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione le frodi e le irregolarità nei programmi di cooperazione territoriale europea e la corretta gestione dei flussi finanziari europei sono stati al centro della giornata dei lavori svoltasi nei giorni scorsi a Roma presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri L'odierno dibattito si pone come primo evento per un inizio seminariale in otto stati partecipanti al programma IPA Adriatic Cross Border otto stati Slovenia, Croazia, Albania, Montenegro Bosnia e Herzegovina Grecia ed Italia il primo Movens è determinato da una necessaria analisi sull'utilizzo dei fondi dell'Unione Europea nei programmi di cooperazione territoriale europea e nella necessarietà di porre in essere azioni e misure non solo di rettifica finanziaria ma azioni e misure preventive nella lotta alle irregolarità e alle frodi Per il Presidente D'Alfonso la cooperazione territoriale ha anche l'obiettivo di costruire una solida comunità di istituzioni ed enti preposti alla prevenzione e alla repressione delle frodi e della irregolarità attraverso il processo di continuo miglioramento delle competenze e la creazione di un ambiente in grado di innescare percorsi virtuosi Ampi e amministrazione comunale questa mattina hanno presentato quelle che saranno tutte le iniziative per il ponte del 25 aprile a Pescara Abbiamo sostanzialmente istituzionalizzato un appuntamento che abbiamo tenuto l'anno scorso per la prima volta e cioè aspettando la liberazione l'anno scorso erano 70 anni dal 25 di aprile quest'anno abbiamo intenzione di ripeterlo e per questo diamo appuntamento alla città alle 22.30 del giorno del 24 aprile il giorno precedente e aspetteremo una mezzanotte tutti insieme parlando di liberazione Per quello che riguarda le iniziative che fa Ampi e Pescara in partecipazione con il Comune un ricchissimo calendario che addirittura prenderà 4 giorni con spettacoli teatrali con la proiezione di un bellissimo film invito tutti quanti i cittadini a venire a vederlo domenica sera proietteremo nella sala del Consiglio Comunale L'Uomo che Verrà che è un bellissimo film di Giorgio Diritti sulle vicende di Marzabot e quindi uno degli esempi della tragedia del nazifascismo in Italia e poi il 25 per esempio con una motivazione molto forte Ampi e Pescara darà una targa alla bandiera, no? ombrina come emblema dell'Italia che vuole resistere a tante cose in questa regione ma soprattutto come esempio per il resto del paese Ora apriamo la pagina dello sport iniziamo dalla Serie B domani il Pescara ospiterà il Cornacchia e il Brescia sarà una partita importante perché si celebreranno anche gli 80 anni della società sportiva la squadra giocherà con la maglietta celebrativa presentata dieci giorni fa e sul fronte della squadra rientra in parte l'emergenza dei recuperi di Caprari Memushai, Mazzotti e Aresti ora invece ascoltiamo le dichiarazioni del tecnico Massimo Oddo non è un Pescara 2.0 è l'evoluzione del Pescara tramite gli allenamenti quando abbiamo attraversato il periodo negativo e chiedevate come si fa uscire da questi momenti l'unica risposta è il lavoro e il lavoro non è fatto mai a caso lo fa in base a quelle che sono le necessità una di queste necessità era dare un po' più di ordine nei momenti di difficoltà delle partite la partita dell'anno fino a domani sera poi sicuramente ci sarà una partita ancora più importante però fino a domani sarà una partita stra importante perché perché vincere vuol dire presumibilmente eliminare una squadra vuol dire staccare di qualche punto altre squadre perché ci sono sconti diretti e quindi vincere domani vuol dire mettere un piede e mezzo nei playoff e soprattutto non staccarsi dalle squadre che ti precedono di uno o due punti Brescia è una squadra che gioca molto bene qua dovrebbe giocare 4-2-3-1 4-4-2 cambia poco è una squadra molto ordinata in campo è una squadra molto molto fisica e questo è un aspetto non sottovalutare perché noi sappiamo che con le squadre molto fisiche più delle volte soffriamo spero che non venga a piovere perché sennò sarebbe ancora peggio con il campo pesante però il Brescia ha dimostrato di essere molto una squadra molto giovane simile alla nostra però ha grandi individualità perché ha giocatori importanti sia davanti che a centro campo e dietro una squadra molto solida quindi sarà una partita molto molto difficile e credo che sia una delle poche squadre che ci assomiglia nel senso che è una squadra che al di là del risultato cerca sempre di fare il suo credo calcistico sia dentro che fuori può vincere può perdere però non cambia mai atteggiamento non cambia mai nulla per cercare di fare partite diverse l'una dall'altra in casa o fuori e sul match di domani a Pescara ascoltiamo anche le dichiarazioni del tecnico del Brescia Roberto Boscaglia abbiamo bisogno di fare risultato per poter giocarci le ultime partite quindi le ultime speranze e secondo me abbiamo le carte regola per poterlo fare quindi sarà una partita un po' diversa dalle altre niente aspettiamo domani sappiamo di giocare contro una squadra che sta bene sta bene fisicamente sta bene in campo e non sarà facile però andremo lì perché è come se fosse una partita come dire unica sono 90 minuti dove dovremo andare lì col piglio giusto per poter portare a casa dei punti importanti ma la padura da solo non segna non gli ho mai visto fare un gol da solo cioè non gli ho mai visto prendere la palla dal portiere e fare gol quindi la padura è un giocatore fortissimo fantastico però ha bisogno dei compagni ha bisogno dei compagni di reparto ha bisogno dei compagni di centrocampo ha bisogno di una buona difesa ha bisogno di avere rifornimenti poi lui è bravissimo a realizzare a trasformare in oro tutto quello che gli danno ma ha bisogno anche lui di rifornimenti quindi a me quello che io quello che guardo io è tutto il Pescara è una squadra costruita bene di qualità che sa giocare a calcio che ha idee che si muove che sa giocare sul corto sul lungo è una squadra che appunto è lì e si gioca si gioca sicuramente si andrà a giocare la Serie A e per la Virtus Lanciano vigilia della difficile trasferta di Cagliari recuperati e convocati Bacinovic a Menta e Ferrari che ieri non si sono allenati la squadra è partita nel pomeriggio da Fiumicino per raggiungere la Sardegna intanto il tecnico Maraiulo parla anche della penalizzazione garantisce che la squadra lotterà fino alla fine per centrare la salvezza anche con il fardello del meno 7 in classifica eravamo a perfetta conoscenza della situazione anche se è chiaro che fino all'ultimo secondo c'era la speranza per quanto riguarda la situazione numerica non si sapeva se 5, 4 questo o quell'altro però ne abbiamo discusso sicuramente precedentemente tutti quanti conosciamo bene la situazione e la conoscono benissimo anche i ragazzi io quello che mi sento di dire l'ho detto già in precedenza che mi faccio mi faccio garante della consapevolezza dei ragazzi che sia per quello che hanno fatto e per quello che dovranno continuare a fare scendere in campo con la stessa grinta determinazione abnegazione che hanno espresso contro il Novara e avendo questo atteggiamento la speranza di fare quanti punti possibili in queste rimanenti 5 partite diciamo anche proibitiva voglio dire andiamo ad affrontare una squadra stratosferica che con la Serie B probabilmente non ha niente a che vedere e che soprattutto in casa proprio perché mancano 5 partite farà di tutto per vincere per avvicinarsi ad avere la matematica certezza della promozione però noi non dobbiamo non dobbiamo essere l'agnello sacrificale nel senso che dovremmo comunque fare di tutto per cercare di ottenere un risultato positivo sulla carta io dico che noi abbiamo tre trasferte brutte perché abbiamo Cagliari e Pescara e poi l'ultima Livorno che in questo momento non sappiamo che partita possa essere sicuramente sarà una partita importantissima sia per noi che per loro e nonostante tutto dico anche che le partite che abbiamo in casa con l'Avellino e la Ternana se qualcuno pensa che siano facili o che non è questo però la cosa che mi che mi fa andare avanti e stare abbastanza tranquillo a prescindere dalle squadre che dobbiamo incontrare è l'atteggiamento dei miei ragazzi Apriamo anche la Lega Pro è la penultima trasferta della stagione per il Teramo che domani sarà di scena sul campo della Pistoiese bisognosa di punti salvezza e riduce dalla netta vittoria di Arezzo conquistato con il nuovo allenatore Valerio Bertotto per il tecnico Biancorosso Vivarini è anche il momento di tracciare il bilancio della stagione ma al Teramo penso un bel 7 perché comunque al di là della classifica al di là dell'obiettivo che abbiamo raggiunto domenica scorsa però sotto l'aspetto delle prestazioni sono state sempre prestazioni molto alte anche di qualità è chiaro che per per vincere sempre insomma c'è mancato qualcosa però da parte mia sotto l'aspetto del lavoro sotto l'aspetto diciamo di squadra possiamo essere più che soddisfatti di prestazioni negative ne abbiamo fatte poche c'è stato sicuramente quella con la lupa Roma che è l'ultima sconfitta che abbiamo avuto e poi c'è stato il primo tempo di Macerata a Macerata e anche il secondo tempo all'Aquila che potevamo fare sicuramente qualche cosa in più queste sono state delle cose che magari potevamo fare meglio delle partite che potevamo fare meglio vediamo un pochettino anche ad avere un equilibrio maggiore rispetto magari ai primi 20 minuti di domenica perché i primi 20 minuti un pochettino abbiamo preso diverse ripartenze della Lucchese ci siamo un po' spaccati come squadra ci abbiamo lavorato anche in settimana per cercare di capire il perché quindi anche perché affrontiamo la Pistoiese che è una squadra che domenica scorsa con un nuovo allenatore ha giocato molto in ripartenza quindi dobbiamo essere molto molto attenti a non scoprirci più di tanto l'Aquila in trasferta domani alle 17 sul campo del Rimini per il Rosso Blu uno scontro diretto da vincere a tutti i costi per interrompere la serie nera e tornare a sperare nella salvezza diretta pronti a rientro Maccarrone e Milicevic il servizio di Gianmarco Menga L'Aquila affronta passato presente e futuro è il menù preparato a Rimini per il Rosso Blu di Modica che proveranno ad interrompere il terribile momento negativo fatto di 5 sconfitte nelle ultime 7 gare e a dare una scossa alla classifica a sole 3 giornate dalla fine l'Aquila è infatti terz'ultima e in piena zona play-out a ben guardare però la penalizzazione inflitta in settimana proprio al Rimini e la possibile concomitanza dei risultati favorevoli in questo turno di campionato fanno sì che gli Aquilani siano al momento ancora a sole tre lunghezze dalla salvezza diretta potrebbero quindi bastare 9 punti da qui all'8 maggio per scacciare l'incubo play-out abbiamo detto di presente e immediato futuro c'è però anche il passato il Rimini infatti in piena lotta play-out proprio con l'Aquila è allenata da Leonardo Acori che ai piedi del Gran Sasso è ricordato con affetto dagli Aquilani per la stagione 91-92 quando alla guida dei Rosso-Blu vinse il raggruppamento di Serie D ma perse poi lo spareggio per l'allora Serie C2 contro il Gualdo i sentimentalismi però in questo caso verranno messi da parte entrabbe le squadre vogliono infatti a tutti i costi scongiurare gli spareggi per non retrocedere in Serie D l'allenatore aquilano Giacomo Modica confermerà il suo 4-3-3 a Rimini al centro della difesa tornerà Giordano Maccarrone che farà coppia con uno tra Cosentini e Sanni sugli esterni a sinistra Piva è favorito sul Ligorio mentre sulla destra Di Mercurio è quasi certo del posto complice l'indisponibilità di Chiri e Letti ai margini dopo quanto successo con i tifosi domenica scorsa in mediana tornerà il croato Milicevic l'unico in possesso di una visione di gioco di categoria superiore a suoi lati come mezzali ci sarà spazio per due tra Bulevardi De Francesco e Manuel Mancini in attacco infine con Triarico out per squalifica la certezza sembra essere perna nel ruolo di boa centrale ai suoi lati giocheranno due tra San Domenico Andrea Mancini Ceccarelli e De Sousa Prima di salutarci leggiamo il testo di avviso per tutti coloro che intendano trasmettere messaggi politici autogestiti e gratuiti l'emittente TV6 informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti per le elezioni amministrative 2016 fissate per il giorno 5 giugno 2016 a tal fine informa che presso la propria sede di Silvi in via nazionale Adriatica Nord numero 26 al numero di telefono 085 9300 020 contattando Quintino Pallante sarà possibile consultare il documento concernente la trasmissione dei messaggi il numero massimo dei contenitori predisposti la collocazione nel palinzesto gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto e chiudiamo anche la terza edizione del TG6 il prossimo appuntamento torna domani alle 14 buonanotte a per la trasmissione